ovviamente una parte molto importante della nostra gag è appunto vita giusto allora portiamo le gambe destra lateralmente cominciamo alzarla ok controlli che le gambe di sostegno è leggermente divaricata la punta ok genocchio segue sempre la punta ok adesso abbassati le spalle ok le spalle e le anche si vanno a chiudere non è un gioco di braccia e di gamba quanto di spalla e di anca ok passano avanti passi indietro addominali dominali ok continui 8 torna indietro 7 torna indietro continui addominali tesi e state provando di chiudere proprio il punto vita chiudi chiudi ancora continui 4 3 2 adesso facciamo in torsione chiusura torsione chiusura torsione chiusura torsione ancora 4 chiudo 3 chiudo 2 chiudo e stop eccellente allora quello che stiamo provando di fare e chiudere questo spazio ok dalla spalla alle anche esattamente dove parte il nostro punto vita ok allora divarico poco il ginocchio divarico poco il piede ok e cominci ad alzare le gambe ok e abbasso le spalle vai 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 ancora 8 7 6 5 4 3 2 dammi un altro 8 8 7 6 5 4 3 adesso facciamo come torsione così vado torsione chiudo e torsione addominali tesi mi raccomando 4 continui a sorridere che stai facendo un bel lavoro per tutto il tuo corpo specialmente oggi il nostro addominali ancora 8 chiudo e chiudo e 7 e 8 eccellente ti aspetto al prossimo esercizio insieme con turbo gag ok questo esercizio si chiama un affondo con calcio portate le gambe destra in avanti e faremo 15 per gambe ma in questa maniera allora 1 2 3 calcio 1 2 3 2 1 2 3 3 spingo su tallone 4 spingo su tallone 5 ancora 10 vai 9 vai 8 vai 7 ok ancora 6 5 e 4 3 poi cambiamo gambe ancora sorridi e ultima si sentono questi si sentono tantissimo portate le gambe sinistra in avanti ok genocchio ora 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 grandi sorrisi spingo 6 vai 7 8 9 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 e 5 questo veramente si è sentito ecco perché si chiama turbo gag e non gag semplice ok bravissimi eccellente questo lavoro di oggi ti aspetto al prossimo allenamento insieme con la gym che è un turbo gag allora andiamo a fare un allenamento per il nostro interna coscia è molto veloce perché molto breve ma molto intenso e andiamo a fare un grand plié e in chiusura però Così facciamo uno, due, tre, e in chiusura. Quando chiudo, devi tirare dentro i glutei e schiacciare l'interno coscia, diventare molto compatta, ok? Così, uno, due, tre, e chiudo. Uno, due, tre, e uno, due, tre, squeeze, viene meglio in italiano che in inglese. Squeeze, perché voglio restringere, stringere, stringere. Su, scendo, 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 squeeze, e scendo, 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 e chiudi. Vai, 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 grande, su, easy. E tira, 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 tutto, anche l'abdominale, tira tutto insieme. E su, tira, e su, e su. Ok, ancora dieci. Two, three, chiudo, nove, chiudo, otto, chiudo, sette, chiudo, sei, chiudo, cinque, spingi, quattro, tre, due, e uno. Relax. Come ti ho detto, breve, ma molto intenso. E andiamo sul prossimo esercizio insieme. E spero che ti stai trovando molto bene con il mio gag turbo. A presto, ciao. Se chiedi a qualsiasi allenatore sulla pianeta, dice, voglio lavorare i glutei, ti darà una parola. Squat, fai squat. Squat è non finire squat con carichi, squat in ogni salsa. Però io voglio fare una squat un po' diversa, perché i squat ovviamente sono eccellenti, ma voglio fare uno squat particolare. Allora, scendi giù, ok? A questo punto non ci risolviamo più. E noi avanziamo uno, due, tre e quattro e saltiamo piccoli jump squat indietro. Poi sinistra. Uno, due, tre e quattro indietro. Poi destra. Uno, due, tre e quattro. E stai basso con il petto, ok? Indietro, destra, vado, indietro, sinistra, vado, destra, vado, sinistra, vado, talone, talone e ancora, talone, talone, sinistra, destra, vado, indietro, vado, talone e quattro. Vado, indietro, ancora quattro, andiamo, destra, sinistra, destra ancora, ultima due e ultima e indietro. Wow, eccellente. Per questo è Turbo Gag. Se volete farlo un'altra volta, farlo pure. O concatena questo esercizio un altro ancora. Ma farlo almeno 15 minuti al giorno per avere il massimo del tuo corpo e perciò della tua vita. Alla prossima, ciao! Ciao, adesso facciamo un side plank, ok? Una plank che è la nostra gag perché avere un cuore molto forte e importante. Allora, appoggiamoci giù, dobbiamo fare cento per lato e cominciamo a sollevare. Ok, sollevamo tenendo però l'ombelico veramente attaccato alla nostra colonna vertebrale. Allora, immagini che stai proprio tenendolo frattenuto, tirato dentro, ok? Attaccato alla colonna vertebrale da una parte e dall'altra parte stai sollevando l'anca, ok? L'anca da basso verso alto. Continuiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e venti. Allora, se tu hai bisogno di recuperare durante questi esercizi, non ti preoccupare, ok? Ti recuperi, ma non abbandonare l'esercizio, ok? Appena che puoi metterli nella mischia, puoi rimetterti al lavoro, fallo, ok? Continuiamo. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, cinquanta. Ci mancano cinquanta. Continui, tiri su, continui. Four, three, two, sessanta. Vai. Settanta. Grandi sorrisi, dai, continui. Four, three, two, ottanta. Dai, lo so che, lo so, è un bel esercizio, però stai facendo un ottimo lavoro. Continui. Four, three, two, novanto, ottima dieci. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e relax. Uh, eccellente. Andiamo dall'altra parte, ok? Sempre cento. Sempre con la premessa che tu puoi interrompere quando vuoi, poi mi raggiungi quando te la senti. Però la meta finale sarà sempre cento, ok? Non oggi, forse non oggi, ma magari fra un mesetto, magari meno, riuscirai a fare tutto cento di un filato con me, ok? Continuiamo. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e venti. Continui. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, trenta. Continui, dai, tira su, tira su, tira su, ancora. Four, three, two, quaranta. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, cinquanta. Continui, grandi sorrisi, stai facendo un lavoro eccellente. Ombelico bello teso, chiuso, frattieni l'abdome, solleva dal fianco, ancora. Eight, seven, six, five, four, three, two, sessanta. Continui, su, settanta, vai. Ottanta, continui, tiri su, tiri su. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, novanto. Ottimo dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Eccellente. Altro esercizio fatto. Complimenti. Passiamo al prossimo esercizio del nostro Turbo Gag insieme.